ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video oggi farò un make up tutorial di natale userò tutti i colori di natale il rosso l'oro il bianco e il verde e poi farò una cosa particolare sulle labbra una cosa semplice non è una cosa tanto complicata per dare un po di festa anche a tutto il trucco io spero che vi piaccia questo video che vi dia anche qualche spunto per la vostra per la vostra festa per le per le feste di natale se questo video vi è piaciuto mettete un bel pollicione in su commentatemi e iscrivetevi per non perdere i nuovi video io vi lascio al tutorial alla prossima ciao a tutti 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 ciao a tutti